L'erba e i sassi Grazie La finale 6 migliori tempi 46,552 a questo tempo La mul automatically Atleta Aladdin 74 E' sempre atleta di casa a condurre la località bravissima si ricordano sotto passano a condurre il tempo di riferimento sul traguardo 4754 il tempo di riferimento 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 si ha ripreso partita in maniera regolare questa batteria numero 4 si ha ripreso il tempo di riferimento si ha ripreso il tempo di riferimento il tempo di riferimento il tempo di riferimento si ha ripreso il tempo di riferimento e si ha ripreso il tempo di riferimento 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 più inamo Ultima curva per la batteria numero 5 e sarà poi il turno di prendere il tempo, 46, 35, 46. Erivi a farmi. Fate la mia armo. Voi volare la batteria numero 6. Paternese subito alla testa. Ultimo giro. E' la donna da lì. Attacca all'interno Berlusco ma senza fortuna. Chiude bene Paternese al dipresso di Cuba. Siamo al passaggio superlato. Tempo di 48, 498. Un ottimo giro per la batteria numero 4,45. Ve lo scopo di Sardegna. Un ottimo giro per la batteria numero 5,45. Che ha allungato subito di parecchio sulle avversarie. Ma ricordiamo che a contare alla fine non è la polizia di sottoguardo ma il tempo del cronometro. E' la polizia numero 4,45. Sempre la fletta della sport di Sardegna. Andiamo al passaggio 46, 64. Quanto da 1. Questo è il tempo di rinforzare. Grazie.